ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi voglio fare con voi un video diverso finalmente oltre ai video tag un video haul oggi ho fatto shopping per i miei bambini volevo mostrarvi tutte le mille cose che ho comprato per loro allora sono stata principalmente da uvs e da zara allora cominciamo con zara che ho preso meno cose vi faccio vedere quello che ho comprato allora per prima cosa ho preso questa t-shirt semplice è bordeaux con i bottoncini davanti questa qua l'ho pagata 4,95 euro poi ho comprato questa bellissima camicia fatta così con le maniche lunghe a quadri grigia e senape questa qua l'ho pagata 9,95 euro poi ho comprato un maglioncino di quelli di cotone blu semplice col collo av questo pagato anch'esso 9,95 e poi ultima cosa da zara ho preso questa bellissima maglietta righe senape blu e bordeaux col taschino davanti blu pagata ve lo dico subito oddio non c'è il cartellino ma mi pare di averla pagata 7,95 euro questa è la cosa sono le cose che ho preso da zara mentre da ods due bustoni pieni così ho comprato queste carinissime scarpine per mio figlio quello più piccolo abbiamo un matrimonio il 10 ottobre e gliele metterò sotto al visita al completo ma che tra l'altro non mi ho fatto vedere ma quello ve lo faccio vedere poi dopo perché dopo il matrimonio così che è una sorpresa allora queste qua le ho pagate 10,99 euro poi ho comprato a 7,99 euro i due t-shirt per il mio figlio quello più grande allora questa grigia fatta così e quella bianca con questa fantasia poi ho preso altri due t-shirt un arancione e l'altra grigia così semplici per tutti i giorni poi ho comprato una tuta allora fatta grigia così it's a good day to have a good day col pantaloncino col pantaloni lungo le taglie sono tutte taglie 92 poi ho comprato una serie di pigiamini dalla questo qua fatto con il dinosauro dinosauro tutto colorato col pantaloncino poi quest'altro pigiama con questo paperotto che svolazza bianco e grigio altro pigiama il pupazzetto good night col pantaloni questo bellissimo verde smeraldo ultimo pigiama ah i pigiami li ho pagati tra i 7,99 e i 9,99 questo qua per esempio 7,99 gli altri 8,99 questo era l'unico che l'ho pagato così poco per mio figlio di 7 mesi questo qua col pantaloncino poi abbiamo quasi finito sarà un video molto breve questo allora poi ho preso altre magliette un paio di magliette con questa bianca questa blu 7,99 anche queste un jeans classico bellissimo però mi piace un sacco con le taschine dietro le taschine vere questo l'ho pagato 9,99 euro poi un'altra tuta è carina anche questa fatta blu così col pantalone grigio e poi scusate esco dall'inquadratura e poi ho preso dei calzini e basta allora io ho trovato davvero molte cose carine ho fatto un giro veloce ho comprato delle cose veloce perché ero da sola però vi confido che ci tornerò perché io preferisco comprargli le cose all'inizio della stagione che sei sicura di trovare tutto quello che ti serve e poi nel corso dell'inverno reintegro con altre cose e niente questo è stato tutto lo shopping che ho fatto per i bimbi io vi mando un bacio grande e al prossimo video ciao